a sinistra a sinistra come fai a preoccuparti che ha preso? ho riduto le mani voglio vedere come è chiaro no no è chiaro, è chiaro da posto domenica dice qualche anno io non credo, ero capito questo è meglio sociale o quella? sì è meglio qualche anno dico a queste pezze ma questa è meglio che ci pezzi davanti perché ti arraccio, non dà parte non dà parte, non dà parte non dà parte, non dà parte quelle pietre grosse la spacca un po' la cosa due grabetti per il rosso picchia di lato e non dopo questo il frullino ciao 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 ciao